And then Let's go ladies and gentlemen Sto tornando Si sono cambiato un po' di cose Mi sono diventati praticamente capelli ricci Non capisco il perchè Comunque ragazzi sono sparito Avete ragione volete sapere il perchè Sono sparito perchè sono stato in viaggio Sono dovuto andare in Provenza Sono dovuto andare a Los Angeles Sono dovuto andare a Londra Sono tornato da poco Ho bisogno anche del tempo per le mie cose Per quello che sto facendo E soprattutto non posso streammare le scrim di Overwatch Per chi se lo chiedesse Perchè non puoi streammare le scrim di Overwatch Perchè è un gioco ragazzi Che non bisogna far vedere le tattiche O se si prova qualcosa di particolare Per cercare di sorprendere gli avversari Perchè è un gioco che ha un meta che cambia in continuazione A seconda delle mappe di contro i giochi Eccetera eccetera Quindi non è possibile da far vedere Allo stesso modo sto giocando a World of Warcraft E so che molti di voi si annoierebbero a guardare World of Warcraft Che è uno dei giochi che invece Ragazzi io ero entrato nel tunnel della droga di World of Warcraft Se c'è una cosa che dicono su World of Warcraft È che è come una droga E veramente dovrebbero esistere dei centri sociali Per far disintossicare le persone a quel gioco Comunque ragazzi Si sono sparito E comunque cazzo Mi piace tantissimo fare i vlog Dovrei farli più spesso Comunque ragazzi Ho già in mente dei video da fare Dei video da preparare Dei video da mettere Dei video Insomma qualcosa da mettere Già ce l'ho in mente Cosa fare? Ora sto vedendo Mi piacerebbe tanto fare molti più vlog Fare molti video Di dove vado Dove viaggio Quello che faccio Mi piacerebbe farvi vedere quello che faccio Intanto a breve Vi farò vedere magari qualche giornata Del mio lavoro Quando vado all'estero Vi farò conoscere alcune persone Che ci sono dietro E tantissime altre cose Mi dispiace quindi per questa assenza Ho avuto molto da fare Come sapete mi piace anche Usare quel tempo per uscire con i miei amici Con la mia ragazza Quindi non posso fare Praticamente mettermi qui Davanti allo schermo E giocare tutto il giorno E streamare e fare video Pure perché fare video Vuol dire avere dei contenuti da portare E non sono quella persona Che vi porta dei contenuti sciapi O che non mi piacciono Sì finiremo la saga di The Walking Dead Non vi preoccupate E se avrà successo Ho già in mente una saga Molto più bella di quella da fare Comunque a parte queste cose ragazzi Vi ringrazio a tutti Per tutto il supporto Che ci siete sempre Che siete sempre lì Ad aspettare che io faccia un video Accenda lo streaming Probabilmente oggi sono in streaming Mi sa su World of Warcraft comunque Niente ragazzi Ah un'ultima cosa Perché in questi giorni Non hai streamato che sei tornato Ragazzi Ho un problema con Telecom Team In questo caso E anche ho saputo Chi ha Fastweb Che praticamente Sui server di alcuni giochi O di alcune piattaforme Hanno dei ping altissimi Infatti Il massimo che ha segnato È stato 10.000 di ping Ragazzi 10 secondi di ritardo Immaginate che cosa è successo Comunque ragazzi Siamo arrivati alla fine del vlog Siamo arrivati alla fine Di questo piccolo video Uuuu Inizia la season Ci becchiamo Let's go baby Let's go Let's go baby Let's go baby Grazie a tutti.